Dietro il ponte, abba bordo. Se il livello di adrenalina rimane basso, le diamo un supporto. Così potrà salpare giovedì. Bene. Interno cabina verso prua. Scusa che mi serve tua madre. Gli sponsor? No, l'agente di Curi ci protesta per il rinvio dell'intervista. Continuo io. Soffitto della cambusa. Giusto. L'ultima volta che sono stata su una barca ero all'università. Ho vomitato per tutto il tempo. Troppi drink? No, avevo tredici anni. Ed era all'università. Sì, lo so, è strano. No, io direi che è forte. Torniamo per un altro prelievo tra quindici minuti, a meno che tu non voglia restare a parlare della tua infanzia perduta. Ho un milione di preparativi da fare prima di salpare. Non si possono accelerare i test. Temo proprio di no. Puoi fare una corsa sul tapirulano. Con una prova da sforzo vediamo se le surrenali rispondono. Ci vorrà mezz'ora. Va bene. È per una lombare. Vai, ci penso io. Vai, ci penso io. Vai, ci penso io. Vai, ci penso io. Vai, ci penso io.